È qui nella Finlandia orientale che la pietra ollare viene estratta e, dopo la lavorazione, diventa materiale per la realizzazione delle stufe tulikivi. La storia della pietra magica è iniziata 3 miliardi di anni fa, quando la natura ha avviato un processo unico di ricristallizzazione minerale. Di conseguenza è nata la pietra tulikivi. Tulikivi si traduce dal finlandese come pietra di fuoco, conosciuta nel mondo moderno come pietra ollare. Le sue proprietà fisiche, come la capacità di accumulo e la conducibilità termica, sono uniche. Sono rispettivamente 3 e 10 volte superiori alla capacità di accumulo e la conducibilità termica del mattone refrattario. L'alta qualità e l'assoluta sicurezza della pietra tulikivi è stata confermata da uno studio indipendente presso l'Istituto per la bioedilizia di Rosenheim in Germania. Ora siamo in una delle cave di tulikivi. Puoi vedere cosa facciamo qui, come portiamo la pietra dalla cava alla fabbrica. L'estrazione viene eseguita in modo sicuro e meticoloso. La pietra viene tagliata e accuratamente rimossa dalla cava. Per questo processo vengono utilizzati due tipi di motoseghe, una verticale e una orizzontale. Prima di diventare prodotti tulikivi, la pietra ollare viene selezionata in modo molto accurato. Dopo l'estrazione, la pietra viene consegnata alla fabbrica su un camion da miniera. Qui i blocchi di pietra ollare del peso di circa 10-15 tonnellate ciascuno vengono tagliati da una grande sega e le lastre risultanti vengono ulteriormente tagliate da una macchina a sega multipla. Dopo un po' di calibrazione e lucidatura, sono pronte per diventare stufe tulikivi. Lo spessore standard di tali pietre varia dai 30 ai 60 mm. Le stufe vengono assemblate e imballate in uno dei reparti della fabbrica. Le stufe tulikivi arrivano nelle loro nuove case, imbancalate e ordinatamente su pallet, come set prefabbricato. Successivamente vengono assemblate dalle abili mani degli artigiani, secondo i disegni della fabbrica. Tulikivi utilizza le più avanzate attrezzature per la lavorazione della pietra, progettate dai tecnici dell'azienda insieme ai produttori di macchine finlandesi. Questa apparecchiatura viene costantemente aggiornata e migliorata in base ai nuovi sviluppi. Oggi è un impianto moderno con linee di produzione automatizzate e controllate elettronicamente, dove le pietre vengono misurate al laser e tagliate con lame diamantate. Durante la produzione viene utilizzata una grande quantità di acqua. Quest'acqua passa attraverso uno specifico processo di filtrazione e ritorna in fabbrica per essere riutilizzata. Per la realizzazione delle finiture uniche di cui oggi Tulikivi dispone, si utilizza un metodo speciale. La pietra viene trattata con acqua ad alta pressione di 600 fino a 1000 bar. Nascono così le esclusive superfici in pietra grafia e nobile. Le stufe Tulikivi sono una scelta ecosostenibile. L'impronta di carbonio dovuta alla produzione è minima perché il materiale è naturale e richiede solo lavorazione e trasporto, prima di diventare una stufa. L'impronta di carbonio dovuta all'utilizzo del caminetto è praticamente inesistente perché, quando la legna brucia, viene emessa la stessa quantità di CO2 che sarebbe emessa durante il suo naturale degrado nel bosco. Inoltre la stufa può essere smaltita in modo sicuro poiché è costituita da pietra naturale, innocua per la natura. L'utilizzo di una stufa Tulikivi per circa 150 volte neutralizzerà tutte le emissioni per la produzione e la logistica. Oggi Tulikivi può offrire 5 collezioni di stufe e camini in pietra naturale. Modelli classici senza tempo con una tecnologia di combustione rivoluzionaria che fungono da centro focale per la casa. Le stufe con forno che sono utilizzate non solo per riscaldare la casa e godersi il fuoco, ma anche per cucinare cibi autentici e tradizionali. La collezione Carelia soddisfa tutte le esigenze della casa moderna. Queste stufe forniscono un calore radiante delicato e duraturo, nonché possibilità uniche di cottura dei cibi. La collezione di stufe leggere Pielinen è progettata per le case in cui l'estetica e il design sono più importanti. Sono disponibili con porte di diverse dimensioni e garantiscono un'ottima visuale del fuoco. Stufe su misura, le più esclusive e speciali. Puoi dare sfogo alla tua immaginazione trasformando la stufa dei tuoi sogni in realtà.